Nei pressi di Castiglione della Pescaia nascerà il più grande bambuseto d'Europa. 103 ettari di estensione con bambù gigante che sarà impiantato. Un'operazione di grande impatto ma fornirà questo materiale non solo per le costruzioni ma anche per altri usi. Forever Bamboo a Castiglione realizza la più grande foresta d'Europa. 103 ettari, quest'anno ne piantiamo 40, l'anno prossimo ne pianteremo i successivi 60. Il motivo per cui noi realizziamo foreste di bambù gigante in Italia è duplice. Da una parte sequestrare CO2, dall'altro trasformare la fibra del bambù gigante in bioplastica. Qualcuno sta già dicendo che questa coltivazione nasce a ridosso di una riserva naturale come la diaccia botrona. È infestante a che livello il bambù gigante? Ha un apparato radicale molto superficiale, al massimo 30 centimetri. Quindi grazie a dei fossati che noi abbiamo già realizzato e i fossati presenti verrà contenuto all'interno dello spazio. Per cui un fossato da 80 centimetri già contiene le radici, i rizomi del bambù gigante. Non c'è pericolo che si possa diffondere in altra maniera, per esempio per via aerea? Per via aerea no, perché il bambù gigante fiorisce ogni 100 anni e ogni 100 anni con la fioritura il bambù muore emettendo semi, che grazie al loro peso cadono nuovamente sul terreno dove è nata la pianta per far ripartire una nuova foresta. Ma non ci sono pollini che girano e quindi non c'è infestazione aerea come per esempio accade per la caccia. Grazie a tutti.